Buonasera a tutti, sono Fabio Gorni, uno dei co-fondatori di Stile Italiano Endodontics e past president della Società Italiana di Endodonzia. Vorrei parlarvi di WAND, che da qualche tempo uso nella mia clinica e devo dire che questo strumento innovativo per l'anestesia digitale è una delle innovazioni più interessanti che noi possiamo prendere in considerazione per la nostra attività professionale. I vantaggi di WAND sono molti, moltissimi direi, e uno dei principali, soprattutto se vogliamo prendere in considerazione l'aspetto strettamente endodontico, cioè quando noi dobbiamo anestetizzare un singolo dente, è quello di poter evitare, soprattutto nelle arcate inferiori, dove normalmente noi eseguiamo un'anestesia tronculare, evitare appunto questo disconfort per il paziente, quindi anestetizzare l'intera arcata, perché WAND ci consente attraverso un'anestesia intralegamentosa di intervenire sul singolo dente con estrema efficacia. Come vi dicevo, una delle altre applicazioni di WAND, oltre all'anestesia intralegamentosa, è quella di sostituire integralmente l'anestesia plessica che noi normalmente eseguiamo, per esempio, nelle arcate superiori. Il vantaggio di WAND è quello di poter iniettare con estrema lentezza l'anestetico e quindi avere un effetto molto più duraturo dell'anestesia e non creare nessun tipo di dolore al paziente durante l'iniezione. L'ultimo aspetto che possiamo prendere in considerazione è quanto i pazienti amano questo tipo di anestesia. Non dimentichiamoci che è il primo atto terapeutico che noi eseguiamo sul nostro paziente e normalmente i nostri pazienti sono estremamente spaventati dal dolore che noi possiamo indurre durante l'anestesia. WAND è totalmente in dolore e i nostri pazienti amano questo tipo di anestesia e lo chiedono in continuazione. Quindi io vi consiglio di provare WAND perché vedrete che rimarrete sorpresi dalle quantità di opportunità terapeutiche che vi potrà dare.